Inaugurato il 26esimo magazzino europeo del gruppo Schmolz & Bickenbach, venerdì 28 settembre infatti a Calderara di Reno in provincia di Bologna è stato presentato il nuovo punto di stoccaggio da 1500 metri quadrati. La nascita di questo magazzino aumenterà sicuramente la nostra qualità nel servizio in termini di velocità ed efficienza. La Schmolz & Bickenbach si propone sul mercato come un leader nell'acciaio inossidabile dei prodotti lunghi, barre, tonde, quadre ed esagonali, suddivise in trafilate per quanto riguarda tonde ed esagonali e laminate per quanto riguarda sempre tondi e piatti, anche se questo in parte è molto più modesta. Il magazzino dasce da una volontà del dottor Vincenzo Mazzola che è il nostro amministratore delegato che già da tanto tempo stava maturando questa idea di voler avere un magazzino strategico nell'Emilia Romagna. L'Emilia Romagna è un punto di distribuzione molto importante perché serve sicuramente oltre a tutta la regione Emilia Romagna, può raggiungere velocemente anche le regioni Marche, Abruzzo anche se è un po' più in là, Toscana e poi noi da qui serviremo anche tutto il Triveneto. Veniamo da un momento difficile, fino adesso il mercato sicuramente si è stato abbastanza contratto, anche se comunque a livello di risultati Smalls & Big & Back siamo anche sopra quelli che erano i nostri obiettivi dell'anno. Pensiamo quindi di chiudere con un risultato in linea con quelli che sono i budget, anzi, io direi forse anche qualcosina di più. Forse è stato proprio questo risultato in cui noi credevamo, ma proprio perché la situazione del mercato non è facile, non eravamo certi di raggiungere, diciamo che questo risultato ci ha indotto sicuramente a credere che questa scelta di un magazzino a Bologna sia veramente una scelta vincente. Presente all'evento anche Susanne Pairix, amministratore delegato del gruppo a livello europeo. Sono la responsabile della distribuzione di Smalls & Big & Back in Europa e siamo presenti in 20 paesi in Europa con 25 magazzini e oggi siamo felici che possiamo aprire i 26 magazzini qui a Bologna. Grazie.